Come riesce ad eseguire una seduta di gene profilassi ultradelicata ed efficace? Una delle cose fondamentali è la personalizzazione del trattamento, quindi l'osservazione clinica dei tessuti dentoparodontali è assolutamente opportuna. Evidente che poi ci servono delle telecologie sofisticate per andare a scegliere, per esempio nel caso del soft mode, delle modalità che agevolino quello che è in pratica il bisogno del paziente, cioè essere tranquillo in una situazione di completo benessere durante le sedute di terapia parodontale non chirurgica. Oggi grazie alle conoscenze microbiologiche e alla tecnologia è possibile ridurre l'invasività ai nostri pazienti. Per quanto riguarda le conoscenze microbiologiche sappiamo che l'obiettivo è andare a ricreare un equilibrio microbiologico. La tecnologia ci supporta in questo. Noi all'istituto abbiamo messo a punto un protocollo proprio per cercare di essere sempre meno invasivi e anche di ridurre le sedute di gene orale, visto oggi il problema legato anche all'inquinamento ambientale. E consiste nel non eseguire il trattamento in prima seduta, ma in prima seduta solo ed esclusivamente educare e motivare il paziente. E il paziente verrà trattato quando ha già ridotto l'infiammazione, quando da solo ha già ricreato un equilibrio microbiologico e questo ovviamente rende la seduta molto meno invasiva. Credo che la cosa più importante nell'eseguire una seduta di profilassi sia quella di creare il minor fastidio per il paziente e essere il meno invasivi possibili, quindi creare meno recessione possibile ai tessuti molli del paziente e allo stesso modo riuscire a eliminare tutti i segni dell'infiammazione. Valutare il biotipo del paziente e qualora ci fossero delle recessioni, utilizzare delle polveri molto delicate con una pressione delicata, utilizzare solo dove necessario l'ultrasuoni, magari con un'acqua riscaldata e comunque adattare sempre ogni profilassi ad ogni paziente in modo individuale. Non esiste mai una efficace per tutti, ma sicuramente siamo in grado con diversi dispositivi e soprattutto diverse pressioni, diverse temperature, diverse scale di potenza, diciamo adeguando quindi tutti questi parametri ad ottenere un'efficace igiene e essendo anche delicati. Lo sviluppo delle tecnologie recenti consente al professionista una pletora di accessori che possono andare dal piezo scaling con sistemi per la modulazione digitale della ampiezza di vibrazione ed è un sistema ottimale nel piezo scaling come sostituzione alle meno recenti e più invasive tecniche manuali, anche se non dovrebbe essere disdegnata una rifinitura con questi sistemi. Tuttavia l'incremento di questi sistemi ad alta tecnologia consente di switchare verso sistemi di scaling piezo elettrico decisamente più sicuri e meno invasivi per il paziente, contestualmente all'uso delle polveri. Molto semplicemente non disinserendo mai la modalità soft mode che in realtà mi permette di lavorare con la stessa efficacia della modalità senza soft mode, però effettivamente sul paziente, ma lo avverto anch'io, la vibrazione sulla mano cambia immediatamente e quindi mi sembra abbastanza logico e immediato capire che anche quel che avverte il paziente con il soft mode sia una vibrazione molto più delicata. E poi c'è la combinazione estremamente vantaggiosa dell'acqua riscaldata, perché spesso io con altri ultrasuoni mi sono dovuta ritrovare a dover scaldare l'acqua, invece qua tutto questo non c'è. Quindi è chiaro che il grande vantaggio di soft mode e acqua riscaldata ti permette di lavorare su recessioni senza utilizzo di anestesia, quindi soprattutto anche nei mantenimenti rende tutto molto più veloce. Sicuramente una buona parte di questa risposta potrebbe essere una buona competenza manuale, una buona capacità di esecuzione delle attività cliniche e questo è dato dall'esperienza e questo è in dubbio. Le nostre attività però diventano sempre più tecnico dipendenti o sempre più legate a quello che è la tecnologia che abbiamo a disposizione, quindi è importante saper scegliere l'equipaggiamento delle tecnologie giuste e saperlo utilizzare in maniera corretta. Ad esempio con dispositivi tipo CombiTouch abbiamo a disposizione una serie di elementi tecnologici, quali ad esempio la modulazione della potenza molto raffinata quando si usa il sistema pizza elettrico, la possibilità di inserire un elemento addizionale che è il soft mode che di fatto modula quella che è la oscillazione della punta dell'inserto e questo conferisce una grande qualità di vibrazione con una minore quantità di energia cinetica rilasciata sul dente e di conseguenza un aspetto di benessere sulla dente e quindi una minore percezione di dolore e questo sicuramente è una di quelle cose che il paziente ricorda quando ha terminato l'assuto di igiene. Eseguo le mie sedute di igiene profilassi utilizzando gli avulatori ultrasonici, sicuramente in una condizione di mantenimento scegliendo la modalità soft mode, altrimenti selezionando gli inserti adatti alla situazione clinica, quindi spostandomi verso una scelta di differenti tipologie di inserti e non come invece in passato siamo stati abituati utilizzando uno stesso inserto per tutte le situazioni cliniche. Ovviamente la parte di air polishing è una parte molto importante per eseguire la seduta in maniera efficace e non fastidiosa per il paziente.